Ciao, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Manessa ed oggi parliamo di Cosmoprof. A Bologna infatti si è tenuta la fiera del beauty chiamata Cosmoprof che ogni anno ospita un sacco di stand e anche da tutto il mondo che trattano di beauty e non solo, quindi anche haircare, bodycare e tutto ciò che riguarda ovviamente anche il make up. Io ci sono tornata dopo tantissimi anni, saranno stati 8-10 anni che non ci andavo davvero tantissimo tempo e ho avuto il piacere di andarci con Federica. Federica è una youtuber che seguo anche su Instagram e ci siamo sempre scambiate qualche messaggio o ci siamo risposte alle stories, insomma ci siamo sempre trovate molto bene a parlare e abbiamo pensato di andare insieme al Cosmoprof. Io mi sono trovata davvero bene con lei e infatti vi invito assolutamente a seguirla. Vi lascio ovviamente il suo link in infobox e vi metto magari qui da qualche parte nel video il suo YouTube e anche il suo Instagram dove pubblica sia Instagram che YouTube tutto tema make up. Noi ci siamo focalizzate sul make up quindi abbiamo girato tutti i stand make up e siamo state praticamente lì dalle 9 fino alle 4 più o meno credo, forse un pochino prima perché poi lei doveva andare a prendere il treno però eravamo davvero sfatte, cioè abbiamo girato tutto anche più volte e quindi eravamo davvero distrutte, non ce la facevamo più e quindi dato che poi lì comunque in ogni caso chiudi alle 6, a un certo punto siamo andate anche perché avevamo davvero un sacco di roba tra cose che abbiamo comprato noi e cose che magari ci hanno dato loro come omaggi e cose di questo tipo quindi di conseguenza a un certo punto abbiamo detto vabbè noi andiamo morte. In realtà grazie a Federica siamo riusciti a girare anche bene perché lei è stata più furba e intelligente di me in realtà. In pratica lei si è fatta un piano con scritto dove era il brand specifico con il numero del padiglione e quindi in pratica era già super organizzata di permessa mia che come sempre io vi ripeto come sono nei video sono anche nella vita reale quindi io ho detto oh sì andiamo vediamo giriamo senza pensare al fatto che la fiera di Bologna è enorme e questo Cosmo Prof poi è gigantesco e quindi in pratica grazie a lei siamo riusciti a girare un po' tutto perché poi quello che interessava a lei in realtà interessava anche a me quindi ci siamo trovate. Non tutti i brand vendevano quindi alcuni davano degli omaggi altri neanche quelli noi dove siamo riusciti abbiamo preso alcuni omaggi ovviamente senza stressare particolarmente anche perché comunque volevamo goderci un po' al momento e ci sembrava anche brutto magari dire che noi facciamo video YouTube o comunque che potevamo sponsorizzare. No, noi questo non l'abbiamo detto, non abbiamo mai detto che facciamo video YouTube che magari pubblichiamo reel in ambito beauty, cose di questo tipo. Non l'abbiamo detto quindi di conseguenza quello che siamo riusciti a prendere l'abbiamo preso. Quello che invece non siamo riusciti a prendere... fine, chiuso. Siamo partite dalla zona coreana perché era quella più vicina all'ingresso in cui siamo entrate ed era comunque una cosa che ci interessava ad entrambe. Quindi siamo andate in tutto questo stand gigantesco coreano e in pratica ovviamente non tutti vendevano e quello che siamo riusciti a prendere sono essenzialmente due cose proprio come prova. Io ho preso questi pad che sono purificanti e in pratica Fede ne ha provato uno sulla mano gliel'hanno fatto provare ed era super super ma super... cioè ma veramente mega imbevuto di siro e infatti io sono rinasta sconvolta e in pratica questo dovrebbe essere purificante quello che invece ha provato lei e che ha preso il campioncino dovrebbe essere tipo la vitamina C credo. Comunque questa sono super curiosa di provarlo proprio perché era davvero... poi leggo dietro che ha l'83% di estratti naturali e come prima ingrediente ha la cannabis sativa l'estratto della cannabis sativa. Quindi molto bello, sono proprio curiosa di provarlo poi qui abbiamo preso anche... di cui ho tantissima roba sparsa non avete idea... questi pad struccanti in pratica loro dicevano che questi basta che ci mettete un po' d'acqua e potete andare a struccare il makeup per poi riutilizzarli per tre mesi. Far vero? Non lo so. Dovesse essere così è tipo la svolta perché basta che ci mettete un po' d'acqua questi cioè ve li portate anche in giro super comodo al posto di portarvi proprio non so il burro struccante o quello che utilizzate per struccarvi quindi questi super comodi li utilizzate top. Vabbè anche questo super curiosa di provarlo poi c'era in pratica uno stand nella zona beauty che vendeva tutto a un euro cioè qualsiasi cosa a un euro e se prendevate dieci cose vi costavano nove cioè follia pura. Io ho visto persone che con la valigia o comunque con dei sconi cioè pieni vi giuro e in pratica io ho comprato qualcosa non ho comprato dieci cose perché non c'erano diciamo tante cose che mi interessavano però ho preso questo 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 e non vedo nient'altro quindi ho preso questi pad questi due due confezioni che sono uno all'acido agliarmonico e l'altro alla vitamina c però entrambi diciamo con effetto esfoliante questi due e poi c'è scritto sopra che sono forse via no fa sopra travel friendly quindi potete portarli anche in viaggio super comodi e li ho presi proprio perché sto provando ad essere un po' più incisiva con la questione esfoliazione soprattutto nella mia zona tivi su capella e mista grassa e ho pensato di utilizzarli proprio per questo scopo poi ho preso questa maschera in tessuto a mia cinamide sempre per la questione di andiamo un po' a purificare a tra l'altro si chiama beauty formula questo brand non ve l'avevo detto ma vabbè e poi ho preso questa maschera per i piedi l'unica cosa è che c'è scritto 90 minuti quindi dovrò tenere su 90 minuti questa cosa ai piedi che io non lo so quando lo farò probabilmente quando sono in ferie ad agosto cioè boh non lo so comunque l'ho presa e vedremo come va comunque costa tutto un euro quindi ho detto proviamo altri omaggi che ci hanno dato sono queste maschere che sono tre di questa marca seven days ci hanno detto che sarà reperibile dai dm fedi ha detto che lei qualcosa perché ho visto il suo video qualcosa c'è già nei suoi dm c'è nei vicino a casa io qui non l'ho visto però io vicino a casa mia un dm piccolo quindi probabilmente può essere anche per quello era uno stand bellissimo tutto colorato con anche le sedie colorate gonfiabili cioè troppo bello davvero davvero bello comunque in generale gli stand secondo me li hanno fatti molto bene davvero tutti molto curati anche proprio come sono locati noi non ci siamo mai perse all'interno degli stand se non per trovare proprio uno stand specifico che stavamo cercando che la fine spoiler non l'abbiamo trovato cioè noi abbiamo girato il cenato il cenato per certo come detto vabbè non si vuole far trovare rimarrà lì però a parte questa piccola cosa non ci siamo mai perse proprio all'interno dei padiglioni perché sono stati pensati proprio bene cioè avevano sia una lettera che un numero e quindi di conseguenza andando avanti con i numeri arrivavi alla lettera successiva ed erano divisi per numero proprio non so come dire le colonne degli stand quindi di conseguenza noi non ci siamo mai perse appunto tranne quella piccola cosa ci siamo perse proprio un mini paniglio non so dove fosse non lo saprò mai quindi secondo me l'hanno pensata molto bene e hanno pensato bene anche la questione navette perché quello che noi non sapevamo ma che poi abbiamo scoperto è che davanti alla stazione partiva proprio una navetta specifica che portava direttamente al Cosmoprof faceva se non mi sbaglio solo una fermata e poi andava diretto al Cosmoprof ovviamente noi ci abbiamo messo un pochino perché quando siamo arrivate noi c'era proprio traffico e quindi ci abbiamo messo un po' di più però comunque diciamo andandoci magari un pochino prima in 5 minuti eravate lì il biglietto lo potete fare praticamente davanti a dove si prende la navetta quindi super comodo e ce ne erano anche tante l'unica cosa è che davvero la resta era assurda quindi bisognava infilarsi appena arrivava la navetta ti dovevi infilare e c'era resta così sotto dalla navetta però l'hanno pensata bene comunque a parte questo poi ci hanno dato queste sempre maschere per il viso del marchio Missha o Missha non lo so questo qui che potete trovare ad esempio anche su Milun che è un sito che vende tutte queste cose un po' asiatiche coreane che mi piace molto mi trovo molto bene e anche proprio anche dei prodottini un pochino di nicchia che costano un pochino di più però comunque io mi sono sempre trovata bene anche la spedizione è super veloce ci sono diversi tipi di queste ci sono anche quelle tipo alle patate che io ho provato cioè super super carine poi oltre a diciamo la zona dove vi davano le maschere poi tra l'altro ci davano anche una busta enorme che ho riempito di tutto perché era davvero gigantesca cioè così poi infatti Fede a un certo punto l'ha mollata perché davvero era gigantesca poi lei doveva tornare anche in treno a casa quindi figuriamoci in pratica c'era oltre appunto a questo stand dove davano le maschere un altro stand a parte dove poterle comprare oltre a questo c'era la possibilità di comprare proprio dei prodotti coreani beauty e principalmente beauty ho visto il make up ma era poco cioè diciamo 95% beauty tipo viso corpo e io infatti lì ho preso alcune cose ho preso principalmente diciamo totalmente delle SPF perché dato che io ho la pelle mista grassa mi trovo un po' a far fatica con gli SPF perché sono spesso non so ontuosi o comunque che sbiancano quindi io che divento ancora più bianca cioè cose un po' terribili di conseguenza io ne ho comprate tre allora io ho preso queste due che sono della stessa marca e poi questa qua che è una marca diversa a me è sempre miscia o missa non so allora io sta marca non ho idea di come si pronunci se non per il fatto che c'è di fianco scritto tipo beauty of qualcosa che dovrebbe essere ioseon forse e ho preso sia la versione diciamo classica così con il tubetto che voi andate ad aprire così sia e questa l'ho già provata come potete immaginare sia invece la versione in stick che è versione mattificante cioè è matt sun stick questo qui e poi ho preso di miscia un prodotto in stile così cioè proprio una crema e questa non l'ho ancora provata e in realtà tutti questi entrambi di questi prodotti non li ho provate e sono tutti e tre 50 più perché io ho una pelle molto sensibile al sole cioè anche se sto solo un paio d'ore al sole senza aver messo un SPF divento viola tanto che una volta ho avuto proprio una reazione allergica al sole mi si è gonfiata la faccia cose terrificanti quindi di conseguenza cerco sempre di uscire con un SPF l'unica cosa è che sto cercando qualcosa di molto come dire leggero sulla pelle e da mettere magari sotto al make up infatti ho pensato a questo prodottino a mettere sotto al make up tipo primer e poi invece questo qui insieme a quest'altro pensati proprio per andarla a mettere magari proprio se sono fuori se devo uscire anche senza make up se magari devo fare una passeggiata per dire oppure devo fare delle commissioni e so che sarò fuori casa per ora con questa crema mi sono trovata molto bene non sbianca ne basta pochissima ovviamente diciamo la quantità giusta di SPF sarebbe due dita quindi voi dovete riempire due dita però io onestamente con questa non riesco perché davvero cioè riesco tipo una e mezza perché se no non so davvero dove spargermela perché è super liquida e comunque si asciuga subito quindi non è che ne serve tante in realtà mi sto trovando quindi molto molto bene ci hanno poi dato un sacco di campioncini da plodica e ci hanno dato quanti campioncini sono? uno, due, tre, quattro, cinque, sei da plodica ci hanno dato vari tipi di campioncini cioè abbiamo una mousse una bubble mousse che mi capita questa qui bubble mousse poi abbiamo sempre un'altra bubble mousse qui poi abbiamo questa che è direi un siero idratante poi una crema che dovrebbe essere anche questa idratante così poi questo che è un crema idratante anche questa penso non l'ho ben capito e poi abbiamo una maschera in crema quindi praticamente io immagino che sia qualcosa di molto cremoso da tenere sulla pelle magari che tutta la notte poi da un altro brand che si chiama Younique ci hanno dato questo cleansing oil super super curiosa io con il cleansing oil esco di testa poi abbiamo questo sunscreen 50 più che non vedo l'ora di provare alla centella tra l'altro e poi questo calming gel cream sempre alla centella molto molto curiosa di provare poi da questo io non so pronunciarlo da questo brand che si dovrebbe chiamare dottor pow pow popò lo so ci hanno dato questo prodottino che è praticamente un olio per le labbra ma potete utilizzarlo anche ad esempio loro dicono sul viso per le cuticole insomma può avere vari usi io di questa ho la versione viola che è proprio per le labbra quindi un olio diciamo per le labbra un burro cacao un olio per le labbra mi sta piacendo davvero un sacco e l'altro l'ho anche quasi finito quindi quando finisco quello penso che utilizzerò questo qui nello stand di fria davano invece in omaggio queste salviettine che vi dirò mi sta piacendo un sacco cioè hanno un odore strepitoso e sono molto morbide e lasciano proprio la pelle idratata sono praticamente infatti c'è scritto effetto idratante sono in realtà baby cioè per i bimbi e sono al miele io non mi trovo tanto bene con le salviette perché è una pelle molto sensibile quindi andando a sfregare divento subito rossa però a quanto pare usando quelle per i bimbi mi trovo bene buono a sapersi questa cosa poi ci sono alcuni stand che vendevano ad esempio Moira io ho acquistato tre prodotti loro facevano tipo se non mi sbaglio tre prodotti dieci euro qualcosa di questo tipo io ho preso questa setting powder sempre perché sta arrivando il periodo in cui la mia pelle soffre quando trucco mi trucco quindi in pratica ho bisogno di tanta cipria quindi ho voluto provare questa per vedere com'è poi ho preso questo prodottino che è un cream shadow quindi l'ho andato ad utilizzare sulle palpebre come ombretto e questo qui se riesco ve lo apro prodottino strabello cioè guardate qua il pack e questo è l'interno cioè guardate quanto è bello bellissimo mi sono innamorata poi ho preso anche un altro prodottino che invece è un pot sempre per gli occhi e vedete già quanto è carino questo è il colore è il numero 11 bang si chiama mi esce così io distruggo tutto come sempre e quindi avete questo cosino che potete togliere e questo è l'altro colore cioè guardate quanto sono belli cioè voi vi mettete questo qua e avete fatto cioè è bellissimo bellissimo poi da road in pratica c'era mi sembra una promozione che boh tipo compravi 10 no 5 cose 20 euro non mi ricordo e io ho preso questo prodottino qua che intanto guardate quanto bello cioè bellissimo è praticamente anche qua un ombretto liquido cioè questo troppo bello troppo bello cioè già il pack bellissimo è tipo verde ma allo stesso tempo un po' viola ma anche un po' rosso cioè questo già da solo vi fa il make up è bellissimo Fede ha preso anche delle matite occhi strabelle ma avevano un sacco di cose carine qui mi sembra che tipo fuori da questa promozione c'erano forse le palette non mi ricordo poi in pratica abbiamo comprato varie cose anche da make up forever e ho preso tre cose allora qui è stato delirante perché davvero siamo state in fila una cosa come 45 minuti perché c'era una ressa assurda ma avevano anche gestito il fatto che una persona si metteva in fila e poi dopo veniva proprio seguita da un make up artist quindi in pratica c'erano tot persone che aspettavano perché c'erano tantissime altre dentro che stavano scegliendo i prodotti con il proprio make up artist infatti sono entrata insieme a Federica e ci ha seguita proprio una una make up artist all'interno che ci ha segnato proprio prodotto per prodotto quello che volevamo prendere spiegandoci anche i vari prodotti come funzionavano insomma anche è stata anche molto molto esaustiva mi sono trovata infatti molto bene in pratica io ho comprato questi prodotti che sono tutti pro pelle grassa ovviamente in pratica ho preso questa cipria che raga cioè se voi provate a indovinare quanto l'abbiamo pagata non ci riuscite voi non ci riuscite questa è la super matte loose powder quindi già il nome e in pratica noi l'abbiamo pagata 8 euro cioè sono 10 grammi di make up forever 8 euro io ho detto tutto la metto via perché ho già detto tutto di questo prodotto in pratica non ricordo quanto abbiamo speso per le altre cose perché mi ricordo solo di quella lì perché davvero mi è rimasta impressa io poi ho preso anche questo primer mattificante che però c'era solo la versione piccolina quindi mi sono diciamo accontentata tra virgolette e mi sembra di averlo pagato anche qui tipo 10 euro cioè cose folli e ho preso poi questo setting spray sempre matte quindi così questa è la full size e questo è il prodotto all'interno ma vi giuro che io in totale avrò speso 30 euro per queste cose cioè sconti folli poi ci hanno dato anche due di questi qua io uno l'ho già perso ovviamente e invece l'altro ce l'ho qui in pratica è un campioncino per provare questo fondotinta qui allora io credo di avervi fatto vedere tutto anche perché davvero sono tantissime cose spero che questo video non venga di 6 ore ringrazio Federica che è venuta con me perché è stato davvero davvero un piacere spero che questo video vi abbia tenuto compagnia ovviamente se siete arrivati fino a qui iscrivetevi al canale lasciate un mi piace di supporto al video noi ci vediamo al prossimo video ciao